Per la rubrica 100 alla maturità, quale futuro post diploma? Intervistiamo oggi Kaur Lovepreet che è una ragazza che ha preso il massimo dei voti di Costa Lunga, provincia di Verona e ha studiato all'Istituto Tecnico Luciano Dal Cero di San Bonifacio Allora la salutiamo, ciao Kaur Ciao Allora Kaur, ti chiedo subito che progetti hai dopo questa bella esperienza che hai avuto a scuola con il massimo dei voti per quanto riguarda il tuo diploma Allora ti chiedo subito cosa farai intanto quest'estate di bello, partirai, viaggerai? Sì, pensavo di andare in Germania giusto per cambiare un po' e comunque dopo questo viaggio pensavo comunque di iscrivermi all'università per quanto riguarda la facoltà di ingegneria gestionale Bene, quindi che tipo di carriera vedi nel tuo futuro? Quali sono le tue aspirazioni, le tue ambizioni? Beh, innanzitutto vorrei riuscire a passare il test e iscrivermi comunque all'università però nel parallelo vorrei comunque anche lavorare giusto per un part time per andare in parallelo sia con la scuola che col mondo del lavoro Senti, tu in questi anni che sei stata a scuola hai mai pensato di voler fare l'insegnante? Vedevi i tuoi insegnanti? Non so che tipo di rapporto hai avuto con loro ma hai mai pensato di intraprendere questo percorso? In realtà ci avevo pensato ancora all'elementare non so perché ma dopo non mi è più venuta questa idea di diventare insegnante soltanto all'elementare un po' Bene, ok. Invece per quanto riguarda le tue esperienze a scuola hai mai sentito parlare o hai mai vissuto in prima persona o sui tuoi compagni esperienze di cyberbullismo? Vissuto in prima persona no, però per quanto riguarda i miei compagni o comunque coetanei sì, ne ho sentito parlare e anche visto persone che hanno subito di cyberbullismo E che tipo di idea ti sei fatta tu su questo? Beh, per l'idea, credo che non sia neanche tanto giusto prendere in giro tramite uno schermo per così dire una persona per quello che è o per come si comporta perché comunque ogni persona ha una propria identità e può esprimersi e può fare quello che vuole senza che un'altra persona possa prenderlo in giro o fare dei commenti che siano poco giusti e credo che sia una cosa veramente molto sbagliata infatti anche a scuola dopo questi piccoli eventi di cyberbullismo ne abbiamo parlato e riparlato per chiarire la situazione e far sentire la persona al posto giusto senza che si senta esclusa dal gruppo classe diciamo Quindi secondo te la scuola può aiutare in questo senso oppure può essere invece un problema per chi supisce questo tipo di azioni? Secondo me la scuola è il primo punto da cui si può partire per eliminare il cyberbullismo perché alla fine sono spesso i coetanei che prendono in giro un'altra persona per quello che è o come si comporta perché alla fine è in classe che si riesce a vedere come si comporta una determinata persona i commenti che fa o come vuole interagire con le altre persone e secondo me la scuola è il primo punto da cui si può partire per eliminare il cyberbullismo quindi sì, la scuola può aiutare E invece su un altro tema particolare di questo ultimo periodo ovvero il DDL-ZAN Hai mai sentito parlare? Anche qui ti sei fatta una tua idea? A dire il vero non ho mai sentito parlare quindi l'idea non me la sono fatta Hai vissuto anche qui a scuola magari delle esperienze di omofobia transfobia paura magari del diverso in questi anni in cui sei stata a scuola oppure non hai mai vissuto nulla di tutto questo? Di omofobia un po' sì al terzo anno se non sbaglio però è stato un periodo molto breve io personalmente non l'ho vissuto ma i miei compagni di classe sì infatti ne avevamo parlato sempre al terzo anno di scuola ma più di tanto non era sono stati un periodo molto breve Ok Senti, invece cosa ti senti di dire adesso ai tuoi coetanei visto che avete finito un percorso della vostra vita che si è concluso adesso magari se ne apriranno altri ognuno prenderà una strada diversa tu già hai deciso cosa fare magari qualcun altro ancora no però cosa ti senti comunque di dire in questo momento della vostra vita ai tuoi coetanei che come te affronteranno adesso veramente la vita? direi che gli anni passati insieme sono stati molto utili perché comunque grazie ai miei coetanei sono riusciti a capire molte cose che personalmente non ero in grado di capire o di comprendere e direi un buona fortuna a tutti per il futuro che si sono scelti o che comunque dovranno scegliere e di riuscire a realizzare i propri sogni bene questo è un bel messaggio che vuoi mandare a loro e speriamo che i tuoi desideri i tuoi sogni insomma si avvereranno nel futuro sei comunque una ragazza che ha le idee chiare e questo è un aspetto molto importante insomma bene allora io ringrazio Kaur Lovebret faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro e speriamo appunto che riuscirai a ottenere tutto ciò che vorrai però intanto goditi le vacanze meritate dopo quest'anno sicuramente particolare e complicato grazie mille noi torniamo con altri ragazzi che si sono maturati per scoprire anche quale sarà il loro futuro musica grazie a tutti